Se pensiamo alla rivoluzione fatta dal DNA, alla rivoluzione fatta dai sistemi informatici, ormai veramente noi possiamo, a posteriori, fotografare i movimenti di una persona, risalire i movimenti di una persona, le sue relazioni, attraverso il telefonino o comunque i dispositivi informatici. Quindi da questo punto di vista ha facilitato molto. Allora ci dobbiamo chiedere come mai ancora ci sono dei casi insoluti, perché utilizziamo la tecnologia non in maniera adeguata. Una giustizia certa, Scienze e Tecnologie al servizio delle indagini è il titolo scelto per l'Ottavo Congresso Nazionale dell'Accademia Italiana di Scienze Forensi, che anche quest'anno affronterà nelle sue molteplici declinazioni una tematica di grande attualità, ad ospitare la tre giorni l'hotel Minerva di Arezzo. Le temi affrontate sono molteplici, è veramente una tre giorni trasversale, quindi si va dal femminicidio, non poteva mancare questo tema, quindi avremo anche magistrati romani, oltre a quelli ovviamente aretini, avremo qui ospite il dottor Valerio De Gioia. Saranno affrontati tutti i temi delle scienze forensici, saranno scienziati anche stranieri, la psicologia, la psicologia forense, le neuroscienze che sono molto importanti e tutte le nuove tecniche che sono messe a disposizione. Credo che sia il nostro dovere affrontare questi temi alla base, cercando di riflettere su quello che eventualmente possono essere anche delle riforme normative, ma soprattutto come utilizzare la prova scientifica in maniera corretta, alla luce delle possibilità che la scienza e la tecnica ci offre, e soprattutto in particolar modo direi nell'interpretazione del dato, perché è nell'interpretazione delle nostre analisi che noi possiamo trovare delle risposte molto importanti. Arezzo assume un ruolo cardine in questa maratona, non solamente a livello geografico, ma anche a livello di personalità e di scienziati che intervengono in questi tre giorni. E come diceva prima il generale, forse la tecnologia al servizio della giustizia è un po' come il diritto che nasce vecchio, ci vuole del tempo prima che si inserisca, prima che si prenda confidenza, ma se utilizzati con la corretta preparazione, con i corretti protocolli, sicuramente il diritto e questa tecnologia potrà essere sempre più messa a disposizione di tutti, dei magistrati, ma anche dell'utente e, dico anch'io, dell'avvocato.